ragazzi a volte ci sono delle storie nel moto mondiale che non si possono raccontare però poi sai passano gli anni e magari ci facciamo due risate su qualcosa anche di abbastanza serio non è che i piloti si amino molto fra di loro anzi secondo me la maggior parte si odia è strano che un pilota come lori seregiani che io ho sempre avuto per anni che una persona molto per bene abbia sempre avuto un odio verso un odio un odio sportivo caratteriale non lo so verso max biaggi proprio non è max biaggi lo stesso verso lori seregiani non si sopportavano pazzesco io ricordo che nel 93 invitai lori seregiani in aprile nel mio ufficio per firmare il contratto della bicilindrica perché lui decise con viteven di lasciare la 250 e occuparsi della bicilindrica aprile vi ricordate che la cui avventura incominciò nel 94 facciamo un bel contratto di due anni lori era contento però mi ha detto carlo se io so che viaggi prendermi a due e mezzo il mio contratto io lo straccio e io sai come cavolo facevo io l'ho fatto firmare però il contratto contatto con viaggi ce l'avevo e vabbè dissi non lo so no no guarda carlo che parla su serie come lori francamente era uno che le cose che diceva le manteneva tutte era molto leale andò via dall'ufficio contratto in tasca fatto volle che lui incontrò biaggi che avevo convocata la sera per firmare il contratto lo vide in macchina per strada non disse niente io incontrai biaggi feci con difficoltà un contratto di due anni 94 95 sapete che lui ci aveva un po lasciato per la onda pur avendo un contratto felicità di ambedua anche dello sponsor fili moris e a un certo momento se ne andò diciamo non contento perché chiaramente gli offrì non tanti soldi però contento di aver trovato una moto competitiva passano due ore e mi arriva la telefonata di loris reggiani hai fatto il contratto con biaggi t'ho visto fine il mio contratto io lo straccio io cerca di convincere niente da fare mi venne in mente di telefonare rossano brazzi che era un po il suo capo tecnico storico gli dice rossano succede questo questo e questo e questo ma vada che ci penso io insomma io non so come fece rossano brazzi convinse lo stesso loris a corre col bicilindrico ma loris per una settimana non mi parlò secondo me ancora adesso se lo ricorda e e crede che l'abbia fregato ma io non l'ho fregato facevo gli interessi dell'apriglia ragazzi succede anche quello di ala